Nel suggestivo quadrante del Santuario della Verna, Simone Cristicchi con Oida Orchestra, ha emozionato tutti i presenti con il Paradiso, dalle tenebre alla luce e potremmo dire così uscimmo a rivedere le stelle, tutti in piedi per un applauso, come un grande abbraccio sotto un cielo stellato per Cristicchi, con questo viaggio verso il Paradiso nell'anno dantesco che ha concluso anche Oida Campus. L'emozione è un privilegio insomma come artista, come uomo anche di essere qui con la mia arte e che possa risuonare, si possa espandere su tutta la valle la vibrazione che metteremo in opera questa sera e quella croce mi fa pensare all'infinito, alla nostalgia di ritrovare quella parte autentica che abita in ognuno di noi, io la chiamo la scintilla divina. La croce in fondo è un simbolo molto antico, ancora prima di Cristo esisteva la croce greca e rappresentava il perfetto equilibrio tra lo spirito e la materia e credo che questo sia in fondo lo scopo di ogni essere umano, trovare quell'equilibrio. Però Oida ci rende estremamente felici, felici e anche orgogliosi di questa orchestra che comunque viene scelta e viene apprezzata da un grande maestro come quello appunto come il maestro Cristicchi. Oida ci rende estremamente felici, felici e grazie a tutti.